Buonasera, attenzione è pericoloso entrare, bisogna scrivere, prendi il cartello, pericolo di morte, è vero, come mai si chiama Tansanto? Perché è in movimento con le acque? I gas, anche i gas, i flui di gas facevano vedere l'immagine in movimento. Come mettete con un'idea di chiedere, perché questa è una cosa a nuvo fa. Possiamo andare a vedere? Perché noi siamo locali, non sappiamo queste cose. Di dove siete? È una vergogna. Certo, bisogna informarsi. Di dove siete? Ma state registrate? Sì, però che sapete. Nature, nature, nature. Come siete persone vere, in gamba, veraci. Di dove siete? Conza. Mia moglie è di Conza della Campania. Il lago, c'è un grande lago lì, è vero? Sì, lo so, però io di quello che sapevo era soltanto delle solfatare, insomma. Ah, vi diamo in omaggio, guarda, ve la facciamo conoscere, portatevela a casa, vai, un po' di miei fide, vai. Vai, sì, sì, lì abbiamo fatto un'installazione con il grande artista Vittorio, ah, un segnalibro anche. E la ginestra? Questa è una ginestra speciale, eh? Ah, io ho fatto le ginestre preferite. Ma questa è la ginestra particolare. Ma è speciale questa, eh? L'esperto sta facendo un grande studio, perché è unica. È una ginestra che cresce soltanto nella valle d'Anzanto, infatti si chiama ginestra anzantica. E io come lo faccio capire? Cioè, se io vado a dire al nord, c'è che la ginestra ce l'abbiamo solo noi. Questa ginestra ce l'abbiamo solo noi. Questa ginestra, questa. E purtroppo non è nemmeno riconosciuta. Il mio lavoro è proprio quello di farlo di conoscere. Noi siamo un popolo, cioè, che abbiamo i prodotti, cioè, come usciamo fuori Torino e Milano, ci mettiamo in movimento e facciamo di più. No, ma noi siamo noi, cioè, che mettiamo in movimento unità, perché sono loro, secondo me. No, siamo noi del sud, è per quello che ti sto dicendo. La facciamo e quando. Tu immagini che ultimamente hanno fatto un disco a Milano, no? Cioè, con i nostri prodotti. Siamo forti all'ornillipina. Grazie. Noi, peccati, come popolo, cioè, adesso i figli non ne vogliono fare più, perché se erano la generazione di prima, cioè, dei nonni miei, forse, tutti quanti, allora potassi c'è che si poteva rinnovare. Adesso così è che si vuole rinnovare. Attenti alla banda di... Vai, suonate, sbandieratori. Va bene, ci vediamo. Buona serata. Buona serata.